Buongiorno signori. Ciao, sono italiana? No, no. Sei italiana? Sì, italianissima. Tu hai detto tagliere, non lo voglio. Oggi facciamo un'offenda, le donne non si pagano. Ah, bene, interessante, grazie. Magari vieni con il tuo marito, da 7,40 euro e 20 euro. Allora, oggi le donne qua non pagano. Le donne non pagano qua. Quindi se paghi 40, 20... E poi che devo fare? Devo lavare i piatti. E poi devi lavare i piatti. Ragazze, guardate quanta gente, guardate che vita che c'è qua. Ragazze, vi faccio vedere questo locale, che prima era una libreria. Guardate, c'è ancora l'insegna. Libreria Dante, già agate. E ora invece hanno messo un ristorantino dove si mangiano paste proprio siciliane particolari, la pasta con la glassa, che sarebbe la glassa delle patate, dello spezzatino. Si mangia la pasta della bolognese, si mangia la minestra. Ed è un amore. C'è l'esterno, che è questo qua, che si può mangiare perché non c'è... Insomma, si sta bene. E poi c'è anche l'interno. Vediamo lo chef che notizie porta. Ma va bene anche qui. Comunque, scegliamo... Guardate che sono belle queste ragazze che cantano. Guardate! 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 Palermo! Guardate! Guardate! Ragazze, vucceria, guardate i fumi, guardate i fumi, guardate! Sapeste l'odore, ragazze, non avete idea! Senti l'odore! Mamma mia! Guardate! Guardate che bello, qua la vucceria! U purparu! Purparu la vucceria! Guardate che bello! A me piacciono tutti questi posti così popolari! Napoli è ancora più popolare di Palermo! Infatti io l'adoro, l'adoro! Lo chef, se ne è andato vicino ai gamberoni, sta contrattando! No, ma noi dobbiamo andare in un altro posto dove andiamo sempre e ci troviamo benissimo! Però lui ci tenta sempre! Chiede i prezzi, guarda come il pesce, se è fresco, se i gamberoni sono di Mazzara! Allora! 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 Let's see! Let's see! Grazie a tutti.